Come spesso capita quando Zlatan sale sul podio delle notizie, la giornata delle notizie monopolizzata solo da Zlatan. Eppure oggi c'era la presentazione del nuovo logo dell'Inter, c'è stato il ricorso accolto dopo l'espressione blasfema di Gigi Buffon, poi c'è stato il ricorso, la decisione meglio, di far giocare effettivamente Lazio-Torino senza 3-0 a tavolino, un po' come è accaduto per Juve-Napoli senza arrivare al collegio di garanzia del CON, il calcio sia adeguato, anche se sono diverse le condizioni, molto diverse in cui è stata rinviata Lazio-Torino rispetto a come venne rinviata a ottobre Juventus-Napoli. Insomma, tanti argomenti, tanti temi, eppure Zlatan di Ibraimovic si è parlato a 360 gradi, se ne hanno parlato tutti, se ne è parlato in tanti termini, in tanti modi, e naturalmente di Zlatan Ibraimovic, nelle notizie più importanti della giornata, che sono una sua categoria molto seguita, molto interessata, si è occupata, molto interessante, si è occupata OneFootball, OneFootball ha ogni giorno proprio il file, le notizie più importanti della giornata, OneFootball è un grande portale, un grande sito, notizie dall'Italia, dall'Europa e dal mondo, è una app con eventi e partite live. L'app di OneFootball la potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video. Allora, perché si è parlato di Zlatan Ibraimovic? Intanto perché è rimasto in Svezia anche per la terza partita, secondo chi segue le cose del Milan dall'esterno, e poi perché sembrava che fosse successo chissà cosa quando è uscito dal campo con il medico della nazionale svedese. Allora, andiamo per ordine. Zlatan Ibraimovic ha giocato le prime due partite, vedremo che cosa accadrà nella terza, che è un amichevole. Ho letto molti il Zeviri, come si diceva una volta, oggi li chiamiamo corsivi, editoriali, approfondimenti, sul fatto che Zlatan non doveva rimanere così tanto e così a lungo con la Svezia, doveva tornare prima. Perché succede a volte al mondo delle media, al mondo dei media, al villaggio globale delle notizie, di convincersi di una cosa e di commentare quella. Dice, dopo le prime due partite doveva rientrare. Ma veramente, io personalmente ho sempre saputo che sarebbe rimasto anche per la terza. Cioè, non è che Ibra doveva fare solo le prime due con la nazionale svedese e poi rientrare. Questo non è mai trapperato dal Milan, non è mai stato il pensiero del Milan. Il Milan ha sempre saputo, si è sempre organizzato, ha sempre gestito il fatto che avrebbe rivisto Ibra il giovedì. Ci fanno giocare il sabato. Certo, è il sabato di Pasqua e giochiamo il sabato. D'altronde, quando il Milan è tornato al venerdì mattina e ci ha fatto giocare alle 15 il derby, non ho visto insorgere nessuno. Alle 15 della domenica il derby andava tutto bene. Adesso, invece, se Ibra torna giovedì e c'è la parita al sabato, no, perché c'è troppo poco tempo. Ibra doveva rispettare maggiormente i tempi del Milan e varie amenità. Io personalmente ho sempre saputo che sarebbe tornato il giovedì. Non ho mai pensato che fa le prime due e poi chi si è visto, si è visto, c'è tutti i ragazzi stato belli o torna a casa. Perché è proprio questo il punto. Zlatan Ibraimovic, che non è stato compreso nemmeno nella settimana di Sanremo, sia ben chiaro, nella settimana di Sanremo, se lo chiedete a me, avrei fatto tranquillamente e volentieri a meno. Su questo non c'è dubbio, ve l'ho detto e ve lo ridico. Però, se analizziamo la sua di testa, la sua di testa è quella di sempre, è quella delle sfide. Zlatan Ibraimovic voleva sfidare anche quella settimana di Sanremo. Tutto il mondo, perché tutto il mondo gli parla dei suoi 39 anni, dei suoi quasi 40 anni, della sua età, dell'essere anziano, e lui dice, vi faccio vedere, faccio Sanremo, gioco anche. Poi purtroppo c'è stato quel problema di carattere muscolare che gli ha impedito, durante Milan-Roma, poi di esserci contro Udinese e Verona. Ma tutto questo sconquasso che avrebbe portato la settimana di Sanremo di Ibra, in che cosa si è risolto? Il Milan in tre partite ha fatto sette punti, che è un'ottima media. Se facessimo di qui alla fine campionato sette punti ogni tre partite, con ogni probabilità, chiuderemo la stagione fra le prime quattro, quindi in Champions League. E comunque, la domenica, dopo la fine di Sanremo, si è svegliato alle sette del mattino, ha preso l'aereo da Nizia, alle nove era Verona. Zlatan Ibrahimovic, lì è rispettoso. Per vivere la trasferta di Verona esattamente come se lui dovesse giocare, anche se poi per il problema muscolare non poteva giocare. Però non ha fatto quello che, siccome sono infortunato, siccome sono Ibra, siccome ho fatto Sanremo, sapete che cosa c'è? Dormo fino alle dieci e mi vedo la partita in tv. La stessa testa che ha avuto nei confronti dei suoi compagni di squadra nell'immediata vigilia di Verona a Milan, Zlatan l'ha avuta nei confronti dei suoi compagni di squadra della Svezia. Zlatan Ibrahimovic non si sente un giocatore di 40 anni, si sente un giocatore punto. Può piacere, può non piacere, ha avuto qualche problema muscolare, certo. Gli hanno anche ragazzotti più giovani di lui. Quindi li ha avuti anche in anni di carriera, ricordo la sua tormentata stagione 2007-2008 con l'Inter di Mancini, ha avuto degli infortuni anche quando aveva meno anni di oggi, anzi forse in quei mesi era stato più perseguitato dagli episodi e dagli infortuni che da quando è tornato al Milan per la sua seconda avventura rossonera. Quindi lui, i suoi compagni della nazionale svedese, non è che dice io sono il grande Zlatan, vengo, vedo, vinco, faccio le prime due parite perché c'è la qualificazione in palio e poi me ne torno a casa. Sto con voi anche per la terza, poi vedremo se giocherà. Non sta a me dire se Zlatan giocherà la terza. Non sono il CT della nazionale svedese, notoriamente. Insomma, dai tratti somatici si capisce, puramente somatici, si capisce, ironizzo su me stesso, evidentemente, sul bellissimo popolo svedese si capisce chiaramente. Però lui non fa questo. Lui, come si alza le 7 del mattino per andare a Verona, sta vicino ai suoi compagni anche per la terza partita, che è un amichevole. Perché lui si sente giocatore a 360 gradi e finché tiri la testa da giocatore che rimane giocatore. Questa è la sfida. Poi, ripeto, io personalmente, adesso non so il Milan, non voglio dirvi il Milan perché in questa sede, in questo caso, non parlo a nome del Milan, ma io ho sempre saputo che sarebbe tornato giovedì. quindi non sono sorpreso. Come per Sanremo vi avevo detto, beh, insomma, fosse stato per me francamente e ne avrei fatto a meno di questa anomalia, oggi vi dico, io personalmente ho sempre saputo che sarebbe tornato il giovedì di questa settimana. Poi c'è stato il caso di Zlatan che lascia l'allenamento della nazionale svedese dopo 15 minuti, apriti cielo, erano già pronti, erano già pronti a farci la morale, la solita filippica, il solito sermone, la solita predica che francamente ha stancato. Visto? Visto? Tu? Eh? Vai in nazionale e poi non c'è con il Milan. A parte che succede nella vita, a volte di, ma non è il caso di Zlatan evidentemente oggi, nel 2021, di avere rendimenti e situazioni diverse fra nazionale e club. Però qui non stiamo parlando di questo. Qui c'era il tema che abusando di se stesso e del proprio fisico Zlatan si era infortunato. Invece no, era da programma, era da sua gestione che avrebbe fatto il primo quarto d'ora d'allenamento, tant'è che nelle immagini di Expressen, il portale svedese da cui ho visto il filmato. Si vede chiaramente che dopo il primo quarto d'ora Zlatan rimane lì in gruppo con i compagni ed è pronto a proseguire l'allenamento. È il medico della nazionale svedese che va a chiamarlo, viene un po' con me dentro e che parliamo e lui esce dal campo sorridendo. Ma quell'uscita dal campo dopo 15 minuti era già diventata la tragedia. Calma ragazzi, calma. Io sogno un mondo in cui c'è qualcos'altro di cui parlare oltre al Milan. C'è qualcos'altro su cui accanirsi oltre al Milan. C'è qualcos'altro e qualcun altro a cui fare prediche oltre al Milan. Perché anche questa sosta con argomenti clamorosi nelle altre grandi squadre italiane è stata vissuta solo e ancora sulla pelle del Milan. E in questo senso non faccio vittimismo, faccio cronaca. Non faccio vittimismo perché evidentemente il Milan interessa tantissimo. Quindi bene. Però poi quando si infierisce anche sul quarto d'ora d'allenamento penso diventa francamente un po' troppo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo e ci risentiamo domani.